Ciao, a novembre scorso ho preso parte alla McSpay di Bari, ospitato dalla Solid Engineering, in cui ho avuto la possibilità di presentare ben tre speech sugli strumenti di simulazione in SOLIDWORKS e tra questi ne ho fatto uno a quattro mani con Marco Cuna, che di fatto rappresenta la terza ed ultima puntata sulle verifiche di moto e strutturali di una macchina industriale. Le precedenti le abbiamo trattate come webinar e troverai il link al termine del video. Ebbene, ho pensato di condividerlo qui su YouTube per tutti quelli che come te non hanno avuto modo di partecipare dal vivo. Sfrutterò lo stesso materiale presentato in fiera per illustrarti la metodologia per ottenere i risultati strutturali sul telaio di questa macchina industriale, considerando come carichi l'azione dinamica del braccio. Con questo di fatto chiudiamo il workflow di analisi ed essendo che svolge un'attività con una certa frequenza, l'ultima verifica non poteva che essere di tipo dinamico, con la quale risponderemo a due domande. La prima è qual è il comportamento strutturale del telaio sotto l'azione dinamica del braccio, visto che al momento conosciamo soltanto la risposta statica, mentre la seconda è il moto del braccio manda risonanza al telaio, perché durante il moto potrà incontrare una frequenza propria del telaio e registrare ampi spostamenti e deformazioni. Vediamo. ed eccolo il modello che prenderò in esame per la verifica dinamica, o almeno questa è la configurazione da cui partiremo, composta dal telaio, dal nastro superiore e dal nastro inferiore. Come vedete per i due nastri ho messo in evidenza la posizione del centro di massa, che vista frontalmente tende ad essere sbilanciata sulla sinistra, dato che su questo lato abbiamo i motori corriduttore. Perché ho lasciato la geometria dei nastri? Beh, per il fatto che nell'analisi dinamica non è conveniente trascurare queste due masse, per il semplice fatto che la presenza o meno dei nastri impatta sulle frequenze proprie o modi di vibrare del telaio. Inoltre non voglio trascurare eventuali accelerazioni, indotte dal moto del braccio articolato, che possono ripercuotersi su queste masse. Ma attenzione, non ho alcun vantaggio nel fare l'analisi con la geometria reale dei nastri. Quello che a me interessa nell'analisi è tener conto delle proprietà inerziali dei due nastri. E il riferimento rispetto al quale andrò a leggere queste proprietà sarà l'origine dell'assieme, che ho già disponibile. Eccola qui. A questo punto mi porto in proprietà di massa e inizio selezionando il nastro superiore. Ed eccole le proprietà che mi vado a copiare. Il valore di massa, la posizione del centro di massa e i momenti di inerzia, sempre riferiti all'origine. E la stessa cosa faccio per l'altro nastro, copiandomi i valori. Bene, fatto questo, passa alle configurazioni che ho preparato per l'analisi dinamica, priva della geometria dei nastri, dove ho messo in evidenza le reali superfici di appoggio del nastro inferiore, mentre per quello superiore ho già a disposizione i fori su cui si fissa il telaio. Eccoli qui. Inizio con il creare un nuovo studio simulation e scelgo l'analisi dinamica lineare di tipo cronologia modale, ovvero quella che mi consente di definire un range temporale di analisi potendo studiare il transitorio. Ed eccolo lo studio. Il materiale, l'acciaio, è già impostato o prelevato dalle parti, quindi procedo subito a definire il vincolo di geometria fissa sulle quattro facce in cui vengono montati i piedi livellanti. Ora inizio a definire l'azione dinamica del braccio durante il moto e lo faccio utilizzando un carico massa remota. Non utilizzo la funzione forza in quanti i valori che ho a disposizione, come vi ricorderete dalle precedenti puntate, si riferiscono alla posizione del motore, quindi ad una posizione remota rispetto al punto di applicazione del braccio al telaio. Inizio, tipologia, carico e vado a selezionare le quattro facce su cui si scaricheranno le forze indotte dal moto del braccio. La posizione è riferita al sistema di coordinate globali, ricordate l'origine, ora recupero i dati che definiscono la posizione da cui abbiamo estratto i valori di forza e momento di reazione che vado ad impostare. Salto la componente di forza lungo x in quanti valori sono trascurabili e attivo y. Ed ecco che state vedendo la posizione remota del carico o se preferite dove si trova il primo motore del braccio. Avendo a disposizione ben 400 valori differenti per la forza in y, che sono i valori del range temporale del braccio da 0 a 2 secondi, nel campo valore inserisco 1, che rappresenta il fattore moltiplicativo per i valori che vado a definire in una curva temporale. In x il tempo in secondi e in y i valori di forza. Li prelevo da quest'excel che riporto i risultati di forza e momenti di reazione prelevati dal motion. Come vedete sono ben 400 fasi temporali con una risoluzione di 5 millesimi di secondo. Vado a copiare i valori delle prime due colonne e rincollo nella finestra di simulation. Ed eccoli qui. Il profilo di carico nel tempo 0, 2 secondi. Ora, potendo definire una sola curva per carico massa remota, confermo, rinomino e mi vado a creare gli altri 4 carichi remoti per le restanti componenti. Eccole qui. Ora, devo tener conto della presenza dei nastri e lo faccio sempre definendo un carico massa remota. Infatti questa volta scelgo massa in tipologia. Inizio dal nastro superiore, quindi vado a selezionare i 16 fori su cui si fissa al telaio. Ok, definito sempre rispetto al sistema di riferimento globale, vado a definire la posizione che recupero dai dati salvati in precedenza, facendo attenzione all'unità di misura. Eccola qui. Al momento lascio il campo forza attivo, poi vi spiego perché, e vado ad attivare massa. Qui riporto le proprietà di massa del nastro, partendo appunto dalla sua massa e vado a definire i momenti di inerzia. È già visibile l'anteprima. Ora, per poter trasferire anche il peso del nastro alla struttura, vado successivamente ad attivare la forza lungo y. Eccola qui. E assegno il valore del peso invertendolo di segno, ovvero stessa direzione e verso della gravità. Visto che non voglio applicarla in maniera lineare nel tempo, la vado a definire con una curva dove a 0.1 secondi la trasferisco completamente e la lascio costante sino al termine dell'analisi, così da simulare il trasferimento di peso e confermo. Rinomino e faccio la stessa cosa per il nastro inferiore. Ed eccoli qui. I carichi sono stati tutti definiti. Passo velocemente alla mesh dove imposto una taglia piccola degli elementi, impostando la qualità bozza per procedere velocemente al calcolo, quindi tetraedri del primordine. Ed eccola la mesh, con una buona discretizzazione dei fori, sia lì dove si collega il nastro che il braccio. Ora, essendo un'analisi dinamica, vado a definire il coefficiente di smorsamento viscoso che imposto al 5%. E prima di lanciare il calcolo, un passaggio importante è andare nelle proprietà dello studio, modificare il tipo di solutore passando a quella matrici sparse più accurato con masse remote e, nelle opzioni dinamiche, definisco il tempo di analisi di 2 secondi e l'incremento temporale che sarà pari a quello utilizzato in motion e che abbiamo utilizzato per definire i carichi nel tempo, sì, 5 millesimi di secondo. A questo punto posso lanciare un'analisi e vedete dovrà calcolarsi la risposta della struttura su 400 fasi temporali. Passiamo direttamente ai risultati, iniziando dalla sollecitazione di Fommises e vedete stiamo visualizzando i risultati dell'istante temporale 0.2 secondi, con un'amplificazione della deformata di 500 volte. La prima cosa che faccio è lanciare l'animazione dei risultati nel tempo di analisi, quindi una verifica qualitativa per cogliere eventuali incongruenze rispetto a quello che mi aspetto e allo stesso tempo apprezzare la deformata e rendermi conto se si innescano fenomeni di risonanza. Non mi sembra. Passo alla vista frontale, vista dall'alto, vado a mettere in evidenza a questo punto dove si trova il picco. Non conoscendo la fase temporale in cui avviene, entrando nelle impostazioni del grafico e nella sezione fase grafica seleziono massima, ed eccolo qui. Ora mettiamo in evidenza dove cade il valore di picco. Guardate, cade sul bordo di una delle superfici su cui abbiamo applicato il vincolo. Il valore è trascurabile nonostante ritengo lì vi sia una singolarità numerica che altra il risultato. Quindi volendo andare a misurare nei pressi di dove si collega il braccio alla struttura, procedo con lo strumento sonda e mi vado a tirar fuori l'andamento del valore nel tempo, visto che si tratta di un'analisi dinamica. Vedete i due picchi a 0,5 e 1,6 secondi con un valore di circa 3,2 megapascal, davvero trascurabile. Passo a visualizzare il massimo spostamento risultante ed eccolo qui. Metto in evidenza dove cade il picco in prossimità del punto di fissaggio del braccio e vale circa 8 centesimi di millimetro, anche questo decisamente trascurabile. Possiamo vedere anche l'andamento del valore nel tempo di analisi, quindi mi servo sempre dello strumento sonda. Ecco, da questo grafico posso rispondere alla domanda che mi sono posto all'inizio, il moto del braccio non manda risonanza al telaio, ho un profilo che ripercorre quelli di carico e non presenta picchi anomali con differente ordine di grandezza. In ultimo voglio plottare il profilo della forza di reazione ai fissaggi, chiaramente nel transitorio, così da prendere visione del profilo nel tempo e del picco. Anche qui si vede bene che l'andamento è quello del carico e si nota la rampa iniziale in cui scarico il peso dei nastri. Il valore massimo è di circa 2400 newton. Chiaramente questa è la sommatoria rispetto a tutti i vincoli, ma posso anche andare a prelevare il grafico sul singolo vincolo, sfruttando questi risultati per definire il supporto. Ora passiamo all'analisi critica dei risultati ottenuti. Volendo comparare i risultati di tensione dello studio statico con quelli dello studio dinamico, come vedi troviamo un ottimo accordo in termini di valore, mentre come distribuzione una lieve differenza in quanto nello studio dinamico abbiamo considerato anche le masse dei nastri. Ad ogni modo l'alleggiamento dei risultati di massima tensione di Fommises ci conferma che la struttura della macchina non rischia di andare in risonanza durante l'esercizio e allo stesso tempo che l'azione dinamica del braccio è irrilevante per questa struttura. Discorso analogo osservando i risultati di spostamento risultante, passiamo da 5 a 8 centesimi di millimetro. Ora volendo riassumere i punti chiave dell'analisi dinamica, posso tener conto delle proprietà inerziali dei corpi che escludo dall'analisi mediante carico massa remota. Se voglio tener conto anche dell'azione della forza peso delle masse impostate, attivo la componente di forza lungo la direzione della gravità. Con i dati di carico importati dal motion imposta il time step pari alla risoluzione di calcolo. Come sempre se questo video ti è piaciuto condividilo, lascia un commento o semplicemente un like. Grazie e buon lavoro!